ciao a tutti ragazzi siamo Laura e Roby con un nuovo video ciao a tutti e ciao a tutte no, falsa allarme portavoce inizieremo il video con il singhiozzo poverino vabbè, capita vabbè comunque non badate molto oggi io sono andremo a registrare oggi io sono andremo a registrare ragazzi andiamo a registrare cosa, è la post-it challenge ho detto anche indovina chi è uguale post-it challenge ho detto in bergamazzo vabbè, a parte le scherze vuol dire ecco, no, sì, vabbè vuol dire vabbè ok vuol dire ciao a tutti mia moglie che ho singhiozzo ma si può ma si può e vabbè, ok posso fare la pure queste che vedevo di cioè, io che ero molto prima dopo pranzo dopo pranzo lo faccio subito in vape anche adesso ce l'ho quindi vabbè, fatelo passare per stare tranquilli un po' esatto ok, comunque quindi questa challenge consiste che ovviamente uno di noi scriverà all'altro ovviamente un calciatore o qualsiasi cosa su questo post-it che vedete molto carini gialli e l'altro tramite le domande dovrà capire insomma di che cosa si tratta esatto in questa stanza però porca miseria che chi inizia a scrivere? uguale vuoi iniziare tu amore? scrivo io però devi tu indovinare o il contrario? no, per me la differenza amore è che mi cambia però appiccico in fronte aspetta tu intanto mi trattieni un attimo ok ci sono eh non so se non è veramente non so il motivo da perché mi è venuto un singhiozzo guarda chiude gli occhi che sono grandi io guardo io guardo te l'ho attaccato e così sta su e getta amore dai no amore ma devi stare fermo mi stai a guardare appunto un po' sudata no 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 se stai così sta fermo vedi stai fermo così e sta su te lo giuro dopo quando il mio mi ha detto te lo tolgo eh cosa è che sono maschio femmina? non sei né maschio né femmina animale? no sono un oggetto facciamo quello che lo tieni tutti fino a scosso no non sei un oggetto intanto faccio vedere io non guardo io non guardo sì penso che sia il cibo che piace un po' diciamo a a tutti che è un cibo che tutti noi italiani in generale amiamo pizza esatto e arriva pizza controlla perfetto esatto pizza e vai lazzaro provi vai tocca a te sì ovviamente non è che se che era un blocchetto quindi non è che io lo utilizzavo tutto perché sennò però l'ho preso perché era ma se invece utilizzavano i mignoni ne utilizzavano solo sì scrivi dietro appunto poi però lo devi dare in mano a me perché se no non ti sta in fronte sì giuro ecco un singhiozzo intanto è nura alle ti ripeto cioè non sto guardando forse non va non va cioè ma dai me la passa meglio io non va la pena ma si può infatti non è che va molto cazzo amore non è che rimane il il signo ma va comunque poi con i libuceli non è indelibile solo una penna fatta un po' così mio amore con il singhiozzo poverino anche lui vai è provato a carmelo se sta in fronte guarda così ok me ne resto qua quindi io non vedo niente ah ho fatto le domande io sono sono una persona no oggetto esatto sono un oggetto che un altro indizio poi prendo solamente superata la mezza cioè la maggiorità però indice la macchina si però in quel caso la patente la patente esatto ah veramente certo ah è vero raga era la patente dai lo scrivo qua allora siamo già con questo tre sì usate allora tanto io ragazzi controllo quanto sta facendo il monza ho controllato prima in realtà quanto ha fatto il monza gli ha perso una zero allora c'era juventus amore io faccio vedere non guardare ti apriamo un attimo io ti faccio vedere in camera il collogo scritto ok ecco fino qua e io adesso non sono in un getto no professora sì con un ruolo specifico che ha a rifare col calcio calcio portiere sì vediamo perine no scesni no uno che c'era bufone sì controlla è vero bufone e vai per realtà siamo pari cioè per ora è in vantaggio lui però se in continuo di dominare siamo pari vero vai vai quando hai fatto mi giro così non vedo vai vai pure vedere è questo è in balsa ragazzi non va adattare mi ha scritto ormai un po' di anni che non scrivo quindi non so se appunto scrivo mai non vado in cilazzo fatto? esatto posso mettere la mano? sì ok vai vai sono una persona sì molto famosa sono una cantante attrice calcio quindi un calciatore sì molto famoso molto famoso allora esatto ed era cioè ed è un mio idolo è un tuo idolo è un tuo idolo buffon? no se buffon ha appena fatto amore è un tuo idolo aspetta chi è? chi chi era? del piero esatto ah beh che mi ha appena andare a juventus è vero del piero è vero è vero è vero mi dico adp alessandro del piero ah è vero 10 le ho fatte quante? 4 4 per un attimo sì 4 facciamo ancora 1 e 1 sì ne facciamo tra testa ok totale 6 ah è vero c'è la c'è la c'è la c'è eeeh allora andiamo un po' allora amore bravo girati un attimo se no vedi? è questo qui raga vai amore tanto non si vede da qua perché l'ho scritto giù in fondo è un soggetto? no persona? no animale? animale? anson cibo cibo sì frutta verdura? frutta mela? sì controlla sì continuo per me vai una mela al giorno toglimi lì quel giorno vai ok io mi tappo gli occhi è buona sarà sì lo so vai amore posso mettere qua? non vedo no no sono tessuto ah ok aspetta sono un cibo? no un oggetto? sì grande grande ma il soggetto si può trovare lo vedi anche dal vivo spesso quasi sempre cos'è? no non posso direttivo sì indovinarlo il tuo amore tavolo? no cavolo è no ho detto tavolo no 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 lo vedi molto spesso ci si può si può stare anche detto anche insetti così non posso diretti l'amore la macchina esatto non posso diretti molto di altri spoiler l'amore penso ah ok sto dicendo la marca della macchina chiedendo di me ok questo è sì non mi ha dato molto alla luce che ci hai detto perché purtroppo ho dimenticato appunto le luci quindi purtroppo tutto che altro appunto come si dice appunto eh utilizzare la luce appunto della lampa della lampa della dietro ah avete notato il nuovo orologio? eh e perché non lo sa ragazzi sta vero che posso rispondere anche da qua che io almeno quando scusate quando appunto devo lavorare piuttosto che perdere le chiamate appunto chiamare il mio capo o il collega piuttosto di star lì scusate avendo appunto la chiamata dall'orologio e poi rispondere dal telefono posso ovviamente accettare da qua e la voce mi è arrivata qua vuol dire una prova adesso mia moglie torna perché hai finito il video perché amore c'ho tutta la registrante il telefono eh la registrante il telefono non mi faccio chiamarti perché mi sei vero eh non posso vabbè dai comunque comunque ragazzi accertiamo che io quando lo chiamo io la chiamare esatto non posso adesso che sennò si stoppa il video esatto quindi scusate comunque io faccio così oppure vedete ragazzi ho tutti i vari messaggi oppure per chiamare faccio vado su vado su faccio così vedete esercizio telefono contatti e ovviamente io riesco a chiamare appunto tutti tutti che voglio cioè i miei i miei i miei amici il mio capo il mio collega mia moglie tutti e devo essere sincero e bello comodo è vero cioè è molto più grande rispetto a quello che avevo prima è vero e nulla non la parla me sennò dopo quindi se questo video vi piaciuto mettete tanti like tanti commenti iscrivetevi al canale attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei nostri video mi raccomando state attenti perché molto spesso youtube quando appunto cliccate sia sul like sia sulla campanella molto spesso non ve lo da quindi cliccate più volte condividete il video dappertutto mi raccomando condividete dappertutto il canale cosa almeno si cresce più in fretta e ancora più importante fatte fatte che riesce a punto di canale per favore ragazzi noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao